Arruolato nell'esercito l'8 giugno 64, subito assegnato ai reparti speciali, sezioni armi leggere. Primo al corso mitraglieri e poi pilota di Harry Potter. 59 nemici uccisi. Torna Sylvester Stallone, torna Rambo. Andiamo a prendere. Lei non prende nessuno, colonnello. Ripeto, missione annullata. Siamo qui! Ingannato dai suoi, solo, in territorio nemico, ormai senza speranza. Tu stai commettendo un errore. Ah sì? E quale? Rambo. E adesso? Deve cavarsela da su. Nessuno potrà più aiutarmi. Non c'è uomo. Non c'è legge. Non c'è forza che lo possa fermare. Sylvester Stallone è di nuovo Rambo. Rambo 2. La vendetta.